Buonasera, buonasera. 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 scuola privata. La decisione del sindaco ha creato qualche malcontento fra le famiglie. Siamo fortemente dispiaciuti per quanto sta accadendo la comunità scolastica pratolana, commenta il consigliere comunale di minoranza Antonio Di Nino. La decisione presa dall'amministrazione a mettere in difficoltà non solo le famiglie ma l'intera comunità con risvolti negativi sul percorso formativo di crescita dei bambini e dei ragazzi interessati. Anche l'economia cittadina ne risentirà. Penso alle tante associazioni ludico-ricreative sportive che non potranno più svolgere i loro corsi. Per l'amministrazione comunale la priorità resta la sicurezza dei ragazzi. Ancora in corso le verifiche nelle scuole di Pacentro e il sindaco Guido Angelilli decide per il rinvio delle attività didattiche. Anche il sindaco di Pacentro Guido Angelilli all'indomani del tragico sisma che ha colpito la popolazione reatina e era acceso il dibattito sulla sicurezza sismica degli edifici scolastici decide per il rinvio dell'apertura delle scuole una decisione che è maturata nelle ultime ore dal momento che nei plessi scolastici comunali sono ancora in corso le varie verifiche. Abbiamo deciso di rinviare l'apertura della scuola di una settimana in attesa delle verifiche che sono in corso. Non appena avremo più informazioni ci riuniremo per decidere il da farsi. Fa sapere primo cittadino Guido Angelilli che rassicura i genitori degli studenti. Sappiate prosegue che stiamo lavorando ininterrottamente per cercare all'occorrenza di trovare diverse soluzioni. Sono in costante contatto con la dirigente scolastica. Come potete immaginare non è facile ma sono sicuro che troveremo la migliore sistemazione per i nostri ragazzi, conclude il sindaco. Nel territorio comunale di Pacentro è in corso nel frattempo la realizzazione di una nuova scuola frutto di una progettazione partecipata, sicura e antisismica. E ora parliamo di Pettorano Sulgizio che è un esempio virtuoso di ristrutturazione. Una scuola ristrutturata in solo otto mesi è per alunni e famiglia il rientro. A scuola è quasi una festa. Un edificio degli anni 80 ristrutturato in otto mesi puntando su innovazione e sicurezza. Genitori e alunni non fanno altro che attendere il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico in programma per lunedì 12 settembre. È il caso della scuola primaria dell'infanzia di Pettorano Sulgizio inaugurata con tanto ritaglio del nastro a fine 2015 dopo i lavori di ristrutturazione e coordinati dal progettista Giorgio Pitassi. Ospide della rubrica sociale Un Occhio per Tutti Pitassi ha spiegato che si è prima di tutto proceduto con una diagnosi delle problematiche che aveva questo edificio che degli anni 80 sono state estratte delle carote di calcio e struzzo per verificarne la qualità. Sono stati utilizzati dei manconi di ferro per testare la resistenza. In base a tutte queste cose si è deciso di intervenire sul rinforzo dei pilastri che erano carenti. Un altro intervento importante che è stato fatto è il ringrosso di tutte le fondazioni sul tutto il perimetro dell'edificio per una maggiore impianto a terra e una maggiore distribuzione del carico ed infine sono stati posati i controventi dissipativi che in caso di sisma dissipano una parte di energia che viene creata dal sisma stesso. Quindi si è innalzata la sicurezza dell'edificio e un intervento di miglioramento sismico è fatto. Pitassi precisa che i lavori sono andati avanti velocemente grazie all'appoggio dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Fossa, una scuola che non è caduta nella morsa della burocrazia come accade spesso nel centro Abruzzo e in Italia. Sopralluoghi anche ad agosto per mettere in evidenza alcune problematiche e le abbiamo risolte in poco tempo. Quindi in questo caso la burocrazia nel caso nostro non ci ha dato ostacolo. La ristrutturazione sta a portare avanti con il metodo della progettazione partecipata. Le famiglie sono state informate passo dopo passo del progetto di consolidamento e miglioramento sismico, un tavolo di concertazione che ha visto protagonisti il comune di Pettorano, l'ufficio di Fossa, la dirigenza della scuola, tecnici e genitori dei ragazzi. Siamo contenti di riportare a scuola i nostri figli il 12 settembre perché tornano in un edificio ristrutturato a dovere. Avere una scuola sicura ripaga tutti i sacrifici che si affrontano durante la ristrutturazione fra cambi di abitudini, spostamenti temporanei e vari adattamenti, esordisce Antonio Paolini, uno dei genitori. I genitori ci siamo seduti a tavolo, abbiamo deciso che comunque i lavori dovevano essere fatti e quindi il sacrificio diciamo ne valeva la pena. alla fine il risultato è stato diciamo un ottimo lavoro perché poi alla fine si va a vedere la sicurezza dei nostri figli. Il rientro a scuola in quel di Pettorano sembra quasi una festa, è la prova che quando una comunità lavora unita il risultato è assicurato. Nero Stellati Comune è polemica, Prato, la stadio anche alla Virtus e la società minaccia di giocare fuori, ci fa il punto Domenico Verlingeri. La società dei Nero Stellati Prato la minaccia di andare a giocare fuori in mancanza di soluzioni da parte dell'amministrazione comunale sull'utilizzo dello stadio Ezio Ricci. La polemica nasce perché sabato prossimo 10 settembre non potrà essere effettuata la rifinitura allo stadio perché occupato dalla Virtus Pratola la società di prima categoria per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Abruzzo contro la Moronese. In un comunicato dell'USD Nero Stellati 1910 viene spiegato che nel merito sono in sorte divergenze con l'assessore allo sport Dino Di Bacco. Alla luce di questa situazione la dirigenza sta valutando per la prima squadra e scritto nella nota il trasferimento del campo di allenamento e di gioco, sondando le altre realtà limitrofe sportive. Il DS Roberto Pantaleo rimarca il disagio che si presenta in vista della trasferta di domenica prossima a Montorio. Non sappiamo ancora dove ci alleneremo sabato, afferma, perché lo stadio sarà utilizzato da un'altra squadra cittadina. La soluzione migliore sarebbe stata quella di far giocare la gara di Coppa Abruzzo della Virtus al campo di Bagnaturo, visto che appartiene al territorio comunale di Pratola Peligna, evitando di privare la struttura della nostra squadra, che dovrà effettuare la rifinitura per forza sabato, in quanto venerdì, essendo il giorno dopo la gara di Coppa Italia contro il Paterno, non si allenerà. Il direttore sportivo Pantaleo annuncia l'intenzione di chiedere per sabato al comune di Sulmona la possibilità di usufruire dello stadio Francesco Pallozzi. La preoccupazione che la situazione perduri per tutta la stagione, la società conclude la nota, si rimette alla volontà del comune di Pratola nel cercare di risolvere il problema, al fine di evitare questa espoliazione che andrebbe a ledere il paese tutto e lo sport pratolano nell'anno dell'eccellenza. Pronta la replica dell'assessore allo sport Dino Di Bacco, che si dichiara esterrefatto e chiarisce che la società non ha comunicato alcun orario per la rifinitura di sabato, che normalmente, dice, viene svolta sempre la mattina. Di Bacco parla della vicenda al telefono, mentre si trova allo stadio dei Marsi di Avezzano ad assistere alla gara di Coppa Italia contro il Paterno, proprio per dimostrare il suo attaccamento allo sport pratolano. Mi dispiace, aggiunge, che qualcuno possa pensare che io abbia sbagliato. Come assessore allo sport cerco di tutelare tutte le squadre e mi è sembrato giusto concedere lo stadio per un derby che si disputa per la prima volta nella storia. L'assessore Di Bacco annuncia che l'impegno dell'amministrazione comunale è quello di eliminare i disagi, giungendo all'omologazione del campo adiacente in terra battuta e alla sistemazione che avverrà a giorni del vecchio spogliatoio delle Zioricci. Avendo a disposizione anche l'altra struttura sarà possibile preservare lo stadio, precisa l'assessore Di Bacco, che a proposito delle Zioricci fa sapere che tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre sarà emanato il bando per l'affidamento della gestione. È una polemica che mi butto dietro le spalle, conclude, visto che non voglio entrare nel merito della questione se sotto ci sono problemi tra le due società. Mi ritrovo in mezzo a questa storia senza volerlo perché non intendo favorire nessuno e auguro ad entrambe di fare un bel campionato. I confetti di Sulmone intanto conquistano i francesi di Le Combré e sono arrivati nella patria di Ovidio nel corso del gemellaggio con Anversa degli Abruzzi. Sentiamo nel servizio. Un'amicizia che va avanti ormai da dieci anni, quella che lega i comuni di Amversa degli Abruzzi e Lie Combré nel nome di Gabriele D'Annunzio e di Marcel Proust. Un gemellaggio che fonda le basi su poesia e cultura. Anche Sulmone nei giorni scorsi sarà visitata dal gruppo di 40 francesi guidato dal vice sindaco François. Prima una passeggiata in centro storico e poi una visita nella fabbrica dei confetti Pelino. Fra arte e storia la patria di Ovidio ha catturato non solo il cuore dei francesi ma anche il palato. Sono stati i propri confetti a suscitare interesse ed entusiasmo. Si sono meravigliati di questa splendida città e anche della qualità dei confetti. Hanno voluto assaggiare e ammirare tutte le specialità. Raccontano soddisfatti alcuni titolari dei punti venti da del centro storico. L'Abruzzo che terra è? L'Abruzzo è molto bella, molto bella l'Abruzzo. In una settimana i francesi hanno fatto il giro del centro Abruzzo partendo da Vezzano passando per Sulmona. Domenica scorsa hanno partecipato anche alla festa della Madonna della Consolazione di Anversa incrociando i pratolani che sono venuti in pellegrinaggio a piedi. Puede mancare la tappa anche a Sulmona? Assolutamente. Adesso siamo diversi gruppetti che stiamo accompagnando quegli amici francesi, anzitutto alla fabbrica dei confetti. Loro sono affascinati proprio dai confetti. Adesso abbiamo ammirato qui il complesso monumentale dell'Annunziata. Faremo una sosta alla statua di Ovidio, poi l'Acquedotto Medievale. Gli parliamo di quella che è la bellezza e la storia delle tradizioni della Sulmona come città d'arte e di cultura. I frutti sembrerebbero buoni. Lunga vita l'amicizia fra Anversa e Elie Combrè. Detenuti del carcere di via Lamaccio in campo per dare un calcio alla violenza sulle donne. Ieri al carcere di Sulmona sono svolte le premiazioni del torneo di calcio tra squadre di detenuti organizzato nell'agosto scorso. A vincere è stata la squadra denominata Sulmona che ha prevalso su tutte le formazioni partecipanti che hanno assunto toponimi di altre città abruzzesi. Tra i detenuti è stata raccolta una somma in denaro donata all'Associazione Donne Vittime della violenza di Sulmona. Nel corso dell'evento, d'intesa con il direttore della struttura Sergio Romici, è stata data lettura di un documento intitolato Diamo un calcio alla violenza contro le donne per sottolineare il significato dell'iniziativa che rientra nelle diverse attività che si svolgono durante l'anno contro la violenza di genere. per i detenuti è stato un modo per dire basta alla violenza contro le donne. E ora torniamo a Prato la Peligna per parlare questa volta del gruppo Giovani Avis che ha donato più di 2.700 euro alle popolazioni terremotate. Sentiamo tutto. Più di 2.700 euro la somma raccolta dal gruppo Giovani Avis di Prato la Peligna per le popolazioni colpite dal terremoto. Lo rende noto su Facebook il presidente Mario Puglielli. Per la precisione, la somma totale raccolta nel corso della serata particolare dello scorso 26 agosto è stata di 2.739,40 euro di cui 57,39 euro utilizzati per acquistare altri beni di prima necessità che saranno spediti assieme all'altro materiale raccolto durante la serata del 26 agosto alle popolazioni terremotate grazie all'aiuto della protezione civile di Prato la Peligna. I fondi invece saranno dirottati direttamente nel conto corrente del comune di Accumoli. Il gruppo Giovani Avis ringrazia tutte le attività commerciali di Prato la Peligna che hanno sposato l'iniziativa solidale circa una ventina, in particolare la gelateria Stella che con il gelato solidale non ha fatto altro che accrescere la solidarietà per i terremotati di Reatino. Diagnostica precoce dei tumori con particolare attenzione a quelli al seno si parlerà di questo domenica 11 settembre alle 18 nella frazione Bagnaturo presso la sala della residenza di Campagna Villa Giovina dove sarà il dottor Roberto Petrella a tenere una conferenza stampa proprio sulla diagnostica precoce dei tumori con particolare attenzione a quelli del seno a partire dall'età di 18 anni. Appuntamento come dicevo domenica 11 settembre alle ore 18 presso il ristorante Villa Giovina. Intanto all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila sarà possibile seguire un corso di fotografia. Vediamo come. Domenico Verlingeri. All'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è attivo in aggiunta ai corsi assistenti il nuovo corso triennale di nuove tecnologie dell'arte interamente dedicato alla fotografia. Il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello in fotografia progettato dal docente Stefano Cessaroni che guiderà verso il diploma gli allievi della prestigiosa Accademia ha l'obiettivo di fornire una conoscenza di base delle tecniche e dei procedimenti fotografici analogici e digitali assicurando una competenza dei metodi e una padronanza culturale dei linguaggi visivi legati a questo mezzo espressivo. Un corso in cui finalmente la fotografia è trattata come produttrice di arte, non al servizio di altre arti. È un corso che si rivolge a chi vorrà diventare fotografo, a chi vorrà nella vita occuparsi di fotografia. Fino a questo momento l'offerta formativa prevedeva ovviamente l'insegnamento della fotografia ma come appunto materia propedeutica ad altre materie restringendo il campo di fatto ad un solo esame. Qui invece avremo l'insegnamento della fotografia previsto su tre annualità, sarà l'insegnamento con il maggior numero di ore a disposizione. A sostegno della materia fotografia avremo tantissime materie tecniche come la post produzione fotografica, come la stampa in digitale, come la creazione di siti web e tante altre materie tecniche appunto a sostegno di questo, più tante materie teoriche che amplieranno il panorama culturale che è fondamentale che un fotografo abbia per poter affinare un proprio gusto e arrivare alla definizione di un proprio stile. Il corso si propone di offrire allo studente una base strumentale linguistica mettendo in grado di progettare e realizzare opere e interventi sul territorio approfondendo la ricerca e l'espressività attraverso la fotografia. Un settore che sembrerebbe in crisi per l'avvento degli smartphone ma al giorno d'oggi quante possibilità di lavoro è in grado di offrire? Non poche. Per chi è effettivamente abile, per chi costantemente esercita questo tipo di attività non sono così poche. La richiesta di immagini sia video che fotografiche è comunque abbondante. Si spazia da tutti i campi ovviamente dallo still life per la fotografia commerciale, alla fotografia di moda, la fotografia naturalistica fino ad arrivare alla fotografia di reportage. Anche se ci siamo spostati dalla carta stampata al mondo del web, comunque l'informazione, la comunicazione è comunque ancora fatta di immagini. E ora il calcio giocato. Nero Stellati Pratola vengono eliminati dalla Coppa Italia per quanto riguarda il campionato di eccellenza. La squadra di Di Marzio è in campo con diversi assenti, è stata oggi sconfitta allo stadio De Marzio di Avezzano dal paterno per 3 a 1 nella gara di ritorno del primo turno. Sul 3 a 0 per i marsicani i pratolani sono riusciti ad accorciare le distanze con i sotti. Dopo l'1 a 0 dell'andata il paterno si aggiudica anche il ritorno e si qualifica a secondo turno dove affronterà il capistrello. Archiviata la Coppa Italia, i Neurosselati dovranno concentrarsi solo sul campionato e pensare alla gara di domenica prossima a Montorio. Vi ricordo fra poco alle 21 su Onda TV l'appuntamento settimanale con la nostra rubrica di scommesse sportive Onda Strike. Ebbene era questa l'ultima notizia per questa sera. Ci fermiamo qui con Onda Tg la prossima edizione come sempre domani alle 13.30. Grazie per essere rimasti con noi a tutti. Una buona serata. Tempo in lento miglioramento ma permane l'instabilità sulla nostra regione dove ci sono condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore orientale lungo la fascia costiera con possibili annuovolamenti intensi localmente associati a rovesci sparsi. Poco nuvoloso sulla Marsica e nell'Aquilano ma poi saranno possibili schiarite sul settore orientale e annuovolamenti sulle zone interne montuose localmente associati a rovesci temporaleschi. Temperature in diminuzione nei valori minimi, il lieve aumento nei valori massimi, venti deboli dai quadrati settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera. Mare generalmente mosso. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!